Radio con Tommy Non mancatevi Sì però non venite col camion Perché c'è gente che deve andare col camion Per prendersi i salotti E tutti i giorni è la stessa cosa Bisogna che noi cominciamo a capire Che non è un modificio Radio con Tommy Metaforicamente in questo salotto musicale Che poi non ha niente a che fare Ovviamente con Con i salotti che si vendono La sabato e la domenica Buongiorno ragazzi Buongiorno No stavo pensando Visto che hai iniziato così A questo punto farei la patente del camion Pure tu vieni a prenderti i salotti Ma coltron te la dirò Dunque tra l'altro Approfittiamo in questo piccolo spazio Perché dobbiamo anche ricordare Gli appuntamenti Di questa giornata Beh avremo ospite Silver che è stato finalista Di X-Facto Oltre ad ascoltare i brani Di questo CD Che lui ha realizzato Io lo stavo dicendo Album Questo disco Vabbè comunque E l'età No perché stavamo parlando prima In fuori onda Dei dischi vinili Della storia che c'è stata Allora ti è venuto in mente Questo? Ma indubbiamente Penso che sia così E poi Ci suoneranno anche Dei pezzi dal vivo Non è che sono morti Cioè live Sì vabbè Ma forse siamo diventati Troppo sterofili Perché dal vivo Uno può pensare Perché è morto Sto povera No no Per carità Anzi E poi Avremo un paio di telefonate Una sicuramente È quella che Ci introdurrà Verso le Dopo il notiziario Credo delle 14 e 30 Con Claudio Golini Doberman Che ci parlerà Di questa rubrica Che lui presenterà A partire da venerdì E poi La cambieremo Nei vari giorni Della settimana Per dare l'opportunità A tutti quanti Di seguire Eventualmente Quando ci sono anche Manifestazioni settimanali E non del weekend Allora Pronto? Eccolo Ecco Ecco C'era giù il volume Buon pomeriggio Come va? Claudio? Tutto bene Buon pomeriggio Doni Buon pomeriggio Ben riprovato Oh bene Anche a te Questo vale anche per noi Tutti quanti Dallo studio E ti salutiamo 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 Roma Un saluto Un saluto A tutti i nostri Radiascoltatori Ho chiamati appunto In diretta per anticipare I saluti Per questo nuovo ritorno Insomma E quindi Era doveroso fare un saluto Ecco E poi soprattutto Per annunciare Che venerdì Inizia la nuova rubrica Della nuova serie Di Che te lo dico a fa? Che andrà in diretta Da Roma Ovviamente Dallo studio di Radio Radio Roma Web Radio Roma Web Quindi Praticamente Che manda il nostro programma E quindi Ci sarà l'opportunità Di presentare Come al solito Le varie manifestazioni Che riguardano La capitale E tutto il Lazio E poi Soprattutto Ogni tanto Sentire magari Le tue composizioni Perché Claudio Doberman È un cantautore Romano E quindi E quindi Ci sarà Certamente Certamente Tommy No Come anticipato No Riprendiamo comunque Sempre come l'altranno Con la novità Che ci siamo estesi A livello di News Spettacoli E notizie In tutta Italia A modo che I nostri ascoltatori Che si spostano Hanno varie notizie Su tutti i fronti Nel panorama Della nazione Italia Ecco Quindi poi Ci saranno anche Novità mondiali E se ne sono tante Non anticipo niente E anche qualcuna Intercalattica Non ci sta male Perché ormai Ci siamo Abbiamo fatto Sembra Ricco Dazzo Mi sembra Ricco Dazzo Un saluto a Giulio Che salutiamo Sì sì Salutiamo Ricco Dazzo Ovviamente Beh intanto Claudio Abbiamo fissato L'appuntamento Per venerdì Come al solito Avremo in studio Silver Snake Michelle E poi Per quello che riguarda Il futuro Ne parleremo Strada facendo Come disse Baglioni Cantautore romano Ovviamente Eh Staremo Certamente Donni Sai che Poi i impegni Sono tanti Quindi sto preparando Anche un nuovo cd Ma Poi le parleremo Nel prossimo Magari ecco Venerdì Anticiperemo Qualche cosina Eh Quindi Bene 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 Mi fa piacere Che abbiamo delle novità Mi fa piacere Allora Claudio Per intanto Io ti ringrazio Sono io Ti ringrazio Voi Tutti i radioascoltatori Perché Eh Il ritorno Praticamente Non è altro Che La fiducia Che ripongono Le persone Che ci ascoltano Altrimenti Non staremo qui Quindi siamo premiati Con la nostra passione Con la nostra Credo Professionalità E ci mettiamo il cuore In quello che facciamo E quindi Un ringraziamento Veramente a tutti A Redd 104 A Radio Roma Web Di cui sono il direttore Eh A tutto lo staff E a tutti i nostri Ascoltatori Ma che bello Guarda Mi è venuta la pelle d'oca Eh Quasi mi metto a piangere Vabbè Ti saluto Claudio Un abbraccio A venerdì Allora Un abbraccio a tutti Ciao Ciao A tutti i nostri In diretta E a tutti quanti Ciao Claudio A presto Ciao ciao Buongiorno amore Se sveglia Se sveglia Oppure no Ma come è lunga Una notte Senza te Senza le tue mani Lontano dai tuoi Voglio come sei Tu non cambiare mai E prenderò Tutti i tuoi sogni Un abbraccio a tutti Un abbraccio a tutti Qui nella stanza c'è ancora il tuo profumo E il mio respiro è ancora lì da te È lì da te E parte una canzone E quanti tuoi pronti ad accendersi Buongiorno, amore, ti sei svegliata o forse no Avrò mai il coraggio di dirtelo Che senza la tua voce Lontano dai tuoi pensieri Non posso stare, aiutami C'è che mi piaci come sei Non te l'ho detto mai Ammi di me le cose che non ho avuto e poi Ti voglio come sei Tu non cambiare mai O prenderò tutti i tuoi sogni Di nuovo l'ultimo Gli darò anima e forma per te Ascolterò il segno che ti lascia un'altra prima A sugero O di tua piccola mali con i amo 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 Io ci voglio come sei